Valdichiana, bentornati, seconda puntata di Giardino Valdichiana, quarta edizione, sempre qua dalla villa di Leonardo, al confine tra il comune di Sinalunga e il comune di Trequanda, in località Il Sodo e dietro tutta questa location c'è la storia di Leonardo da Vinci spiegata dal custode, professore Roberto Barbessi. Ma quest'oggi è venuto a trovarci un'altra persona, personaggio famoso quasi come Leonardo da Vinci. Lui è uno scrittore, nonché autore e ideatore di molti programmi sportivi nelle nostre tv locali, quindi un volto conosciutissimo, lui è Riccardo Lorenzetti. Grazie, grazie Valentina, troppo buona. Perché sei reduce di una serie di premi, settimana molto intensa. Settimana molto intensa, poi ovviamente la chiancianese che chiama per le interviste, quindi di tutto, è il potere della fama. È un piacere. È un piacere. Allora Riccardo, tu sei appunto autore di molti libri che parlano di sport, calcio locale e anche oltre, però io quest'oggi più che parlare di sport con te parlerei di storia, perché il fil rouge della nostra edizione di quest'anno è appunto la storia, la geografia e quest'aurea di mistero che gira intorno alla location dove siamo quest'oggi. Nei tuoi libri, oltre a parlare di calcio, di sport, parli appunto della vita delle nostre comunità, della vita di paese, che poi alla fine è quello che condisce tutte le storie di sport. Parlo della vita di paese perché più che dello sport è l'argomento a piacere che io porterei in qualsiasi tipo di esame, perché poi alla fine questo tipo di vita di paese è qualcosa che io sento molto mia, è qualcosa che io ho vissuto. Io non sono una persona anziana, perché io ho 53 con il millesimo, però ho fatto in tempo, cari amici della Valdicana.it, di prendermi l'ultimo treno di un certo modo di vivere, di un certo modo di essere comunità. Cioè io non sono quello che ha fatto la fame con le toppe al sedere, con le pezze a colore, così come era successo alle generazioni precedenti alla nostra. Io sono figlio del benessere, però mi sono preso il colpo di coda di un mondo che stava ovviamente tramontando e te lo capivi naturalmente, ma dove ancora la tecnologia non era opprimente come adesso. Per cui tutti i piccoli paesi erano, a me piace molto spesso usare questa definizione, le famose polis, le città-stato, che nell'antica Grecia servivano a tutt'altra cosa, ma qui comunque obbedivano ad una regola che comunque significava la qualità della vita. Perché all'interno di queste piccole città-stato, e sto parlando di Petroio, di Castelmuzio, di Trequanda, Montisi, Monte Follonico, San Giovanni, ti sto dicendo piccoli posti, ma addirittura l'abbadia Sicilia, che siamo a non meno di 3-4 chilometri. All'epoca ti pensa che aveva una chiesa, un prete fisso, aveva una scuola, ecco tutto questo tipo di mondo che ovviamente piano piano è andato a tramontare, Io me lo ricordo benissimo e mi ricordo bene di quando i paesi erano veramente delle cose autosufficienti. Il mio piccolo paese, che è Petroio, eravamo 500, ma avevamo 4 bar la sera, che poi non erano bar codificati, perché erano circoli, c'era addirittura quello che oltre a giocarci a carte vendeva anche le acciughe sotto questo, tutte quelle cose che ovviamente una volta facevano parte. Quindi te in un negozio ci compravi bottoni, ci compravi lo spicchio di formaggio, ci compravi la pasta per fare la minestra, ecco tutto questo mondo era il retaggio di un qualcosa che noi ci siamo portati dentro e ci portiamo dentro tuttora, anche se abbiamo 53 anni. E naturalmente ci sbalordiamo nel vedere effettivamente come il mondo dopo la fine sia effettivamente molto cambiato, soprattutto dal punto di vista del tessuto, perché qua nel giro di 20-30 anni effettivamente noi abbiamo assistito a una rivoluzione totale. Dei quattro negozi alimentari che ti dicevo, ne è rimasto uno e apre, insomma voglio dire, sono convinto quel poveretto che è un benemerito che sta lì a fare il pizzicagnole, forse ci cava il pranzo per la cena. E voglio dire, i bar ce n'erano tre, adesso ce n'è uno che anche quello affatica con molti sacrifici eccetera, riesce a tenere aperto, ma sono convintissimo che anche lì alla fine, quando tiri il rigo e fai il conto alla fine del mese, non so se. Perché tutto questo è questo momento di grande trasformazione che fa pensare che la mia generazione è l'ultima che può raccontare un certo tipo di società, che però poi nel giro di poco è andata scomparendo, tramortita dall'onda della tecnologia che ha spazzato via tutto, ma nel giro di pochissimo tempo, 15-20 anni. Ecco, io rimanerei proprio su questo argomento perché tu ovviamente sei di Petroio e conosciamo Petroio al di là appunto della squadra di calcio che insomma è stata in grado di riuscire a rivenire fuori, insomma imporsi nella terza categoria, ma soprattutto per un'altra realtà che sta nascendo proprio in questo periodo che è la cooperativa di comunità. Esatto. Esatto. Consigliere regionale, insomma, quelli che si chiamano pezzi grossi che li hanno incoraggiati. Loro sono bravi a fare questo, indubbiamente, ed è molto longevole il tentativo di recuperare come idea questo, diciamo, modo di concepire una comunità e magari di poterne fare una specie di modello, di una way of life. Cioè che sai, oggi il mondo ti offre tantissime opportunità anche dal punto di vista turistico. Porto un esempio, noi siamo in un posto meraviglioso che è la Villa di Leonardo, è diciamo il non plus ultra per un certo tipo di turismo. Io abito a Bangkok, abito a Milano, abito a Stoccolma, ho voglia di un posto come questo, con la P maiuscola. Io mi metto qua in questo splendido patio con un bicchiere di Brunello, con Mozart in sottofondo, un tramonto come questo, la piscina, tutto quello che ti offre. Questo è un tipo di turismo, poi ce n'è un altro, che ultimamente si sta scoprendo perché questo è il famoso turismo emozionale, nel senso che io, oltre ad avere tutto questo genere di benefit, io voglio anche assaporare quella toscana che io mi immagino, che poi non è nemmeno detto che esista, attenzione perché io sto tratteggiando un mondo che esiste, ma che esiste nella mia mente, ovvero io qualche volta me le risogno tutti i miei personaggi, tutto il mio modo di vivere eccetera, però non è nemmeno detto che sia più riproducibile, perché chiaramente stiamo parlando comunque di uno scenario che può essere anche di carta pesta come film western di una volta, però la gente va alla ricerca anche di sensazioni, io me ne sono reso conto quando, voi parliamo in questo caso la stessa lingua, perché poi sono i posti che frequentiamo tutti, voi guardate quello che succede per esempio al Bravio di Montepulciano, o in piccolo perché la stagione lì purtroppo è meno favorevole al Palio dei Somari di Torrita, cioè quello che viene proposto dal punto di vista della manifestazione, le botti, i somari o quant'altro, è in secondo piano, o meglio viene di retrovia rispetto all'immagine che Montepulciano, Torrita, ma anche altri paesi, Bettolle nel caso del Palio della Rivalza eccetera, riesce ad offrire in termini emozionali, ovvero la gente del posto che ti mette a disposizione un territorio e se stesso, ecco questo è, se vogliamo, l'operazione che può riuscire che i ragazzi vogliono fare a Petroia, ovvero non venite soltanto a vedere, non so che c'è a Petroia, poco, perché non è un paese, voglio dire, dove a ogni angolino trovi l'affresco del 400, la statua del 200 eccetera, Petroia è un paese carino come tanti altri di qui, perché comunque si lascia vedere, nel senso c'è l'angolino, la suggestione eccetera eccetera, però ti non devi venire a vedere il Palazzo Pretorio, non devi venire a vedere la Torre del Castro del 1000X eccetera, ti devi venire a respirare un'aria di comunità attraverso la quale te quando ritorni a Milano, a Stoccolma, a Bangkok, devi dire, ma quanto sono stato bene quella settimana lì dove siamo andati a mangiare in piazza la Panzanella, dove sono andato a mangiare la pappa al Pondoro, dove ogni sera c'era, ma ti dico il fisarmonicista in piazza Padelle che faceva lo spettacolo e poi avevi la sensazione di girare per le piazze e per le stradine e trovare un'atmosfera come veramente quella degli Hobbit del Signore degli Anelli o comunque ricreare quello che potenzialmente è quello che ti ho detto io quando ero piccolino e naturalmente in quel paese ci vivevo. Questa è un'operazione lodevole e io quando hanno fatto le riunioni nel mio piccolo ai ragazzi che poi sono lì materialmente a farlo, li ho incoraggiati, però attenzione la cosa dalla quale chi fa cooperativa di comunità deve stare attento e guardo la telecamera perché sto dicendo una cosa in questo caso molto seria al di là dell'impassant che dicevo prima in questa locuzione cooperativa di comunità la parola chiave è comunità non cooperativa assolutamente sì cioè se te privilegi il discorso la cooperativa ovvero io faccio comunque un affare di business un SRL dove poi alla fine... d'accordo è chiaro che non ci deve rimettere nessuno però se la gente subodora a monte che questa è un'operazione esclusivamente commerciale ovvero tipo il Sergio Leone che viene a... qui ci gira un film western poi finito il film western sbaracca i fondali e li porta da un'altra parte la gente subodora perché oggi la gente è intelligente dice te ma hai fregato allora all'interno dei paesi la prima operazione è quella di ricreare la comunità e comunità significa volersi bene significa scendere in piazza e avere piacere di trovare Valentina Chiancianese il Banini, tutti gli amici avere gusto di bere una birra insieme un bicchiere di spuma, stringersi la mano, raccontarsi le cose è da lì che si comincia aiutarsi l'uno con l'altro perché non è nemmeno vero che il mondo era ideale così perché anche una volta c'erano i litigi, pensiate che si viveva nel mondo assolutamente però la comunità deve essere vissuta a livello umano della gente e ripartire da lì ovvero da un qualcosa del dire scendo in piazza perché ho gusto nel vedere i miei compaesani nel salutare Tizio, nel sentire come sta Caio, nel sentire che fa Sempronio eccetera altrimenti diventa un simulacro, anzi peggio, diventa un clan e allora non sei più comunità, sei clan e io ti lancio un'altra domanda, una proposta, un'idea visto che tu hai una mente fervida, crei tanti personaggi sempre legato al senso di comunità viste da fuori, come dicevi tu, questi paesi, i nostri paesi della Val di Chiana sembrano isole felici dove tutto funziona bene un'altra realtà che aggrega è il teatro e tu sei anche autore di testi teatrali ma una compagnia teatrale di petroio? Come la vedi? Ma guarda, qui mi prendi purtroppo purtroppo è la parola giusta perché non più tardi di dieci giorni fa loro hanno fatto una serata dedicata a Primetta Bardelli che è proprio della famosa filodrammatica e che una volta ci si dava anche un'importanza nel nome quindi le filodrammatiche erano le compagnie di paese che poi facevano delle cosettine a uso e consumo solo dei paesani senza nessuna vellità artistica però una filodrammatica c'è stata e Primetta Bardelli che è questa ragazza che poi è venuta a mancare purtroppo era un po' l'anima di questo tipo di iniziativa io ricordo che siamo andati avanti per almeno dieci anni ma anche con grande soddisfazione ti sto parlando degli anni Ottanta che sono anni, diciamo, l'ultimo colpo di coda visto che sto cercando di settorializzare proprio luogo, tempo e azione del vivere in paese ecco, diciamo, gli anni Settanta, ma soprattutto gli anni Ottanta sono stati quelli, diciamo, finali ovvero nel quale la voglia di fare qualcosa per il paese si è intrecciata con una piccola tecnologia che cominciava ad arrivare per cui quello che ti facevi potevi cominciare a veicolarlo non so, con le televisioni private, le radio private i giornali che cominciavano a crescere, eccetera per cui non era più il mondo di prima dove eravamo veramente a compartimenti stagni gli anni Ottanta ti consentivano di fare buone cose ma anche di propagandarle o comunque di farti vedere un pochettino in giro e noi per dieci anni la filodrammatica la facemmo ora, noi non avevamo come nessun altro perché ce l'avevano anche a Montisi, ce l'avevano a Montefollonico vabbè, Sinalunga, Bettole, per forza erano più grandi di noi però a Sciano, un po' dappertutto c'erano queste velleità artistiche noi durò dieci anni e noi arrivavamo persino a scrivere delle commedie da noi quindi eravamo, diciamo, una piccola Montichiello ma, insomma, fatte tutte le proporzioni del caso però, ricordo che poi dieci anni lì avvertimmo lo stacco generazionale ovvero quando la mia generazione, che aveva vent'anni cominciò, allora, quello cominciò a trovare la fidanzata all'epoca c'era il militare, non so se ve lo ricordate che era un'annata che colpiva molto perché l'anno di militare uno non ci contavi e quando ritornava generalmente era una persona che magari non era più quella che avevi lasciato per cui aveva mille interessi, non so, eccetera c'era gente che si sposava, gente che magari aveva il bambino gente che, non so, trovava lavoro fuori quindi finita la mia generazione che comunque in qualche modo aveva questo senso paesano, eccetera quella dopo non è stata, diciamo, in grado di poter garantire la continuità per cui questo fu un esperimento che finì il teatro è qualcosa di molto bello però di molto impegnativo, attenzione e questo è quello che forse oggi manca nei ragazzi che materialmente devono farlo ovvero quelli che hanno vent'anni che magari se gli dai un progetto bello come può essere una cosa, che so, con il cantiere di Montepulciano con gli arrischianti, eccetera una cosa ben codificata, sì qualcuno te lo fa ma l'impegno a lungo termine Valentina Cancianese, ovvero il dire ok, cominciamo a fare le prove oggi e mi metto a disposizione del regista che poi alla fine il nostro regista era un uomo molto che non era un regista però gli riconoscevamo il fatto che poi ci doveva mettere insieme ecco, e magari per 4-5 mesi dover portare avanti questo discorso che vuol dire prove vuol dire dare la propria disponibilità di tempo, eccetera ecco, noi ce l'avevamo questo modo di fare avevamo uno spirito, tra virgolette, di sacrificio che era divertimento, ma anche sacrificio che alla fine ci portava ad avere un risultato i ragazzi di oggi questo lo tengono meno ovvero hanno magari la fiammata che dura un mese e due però già al terzo mese no, ma io, eccetera e le cose in questo modo non si fanno impegno, determinazione e costanza sempre costanza, brava e che ci vogliono soprattutto per portare per realizzare i nostri sogni allora Riccardo, io ti ringrazio per essere venuto qua a fare questa bella chiacchierata e averci portato questa storia le storie che poi alla fine siamo quello che ci interessa alla Valdichiana raccontare le storie e far parlare i personaggi del nostro territorio io a questo punto ti porto alla scoperta della seconda puntata del sentiero dell'acqua di Sinarunga voi rimanete lì e grazie ancora per essere stato grazie a voi qui abbiamo una sorpresa siamo qui noi non so se riesce ad inquadrare questa mappa siamo al punto 2 punto 2 questo cunicolo fa una improvvisa chicane diremmo oggi in termini da circuito perché questa chicane? il cunicolo continuava a dritto oppure a un certo punto hanno dovuto cambiare direzione per qualche motivo qui vediamo che quest'opera questa muratura qui è stata fatta nel 1691 non è detto che sia la costruzione del cunicolo ma può darsi un'opera di rinforzo creata in questo momento qui allora qui come vedete continua la serie di sedimenti pliocenici questa alternanza di aie e sabbie che in certi punti sono veramente belli da vedere perché se ci si fa caso si vedono tutte queste stratificazioni inclinate fanno pensare proprio alla deposizione della sabbia sulla spiaggia immaginatevi una spiaggia di 4 milioni e mezzo di anni fa e queste zone che invece hanno i sciottoli i materiali più grossolani sono probabilmente legate a momenti in cui il clima era molto più tempestoso e dai fiumi arrivava più materiale grossolano poi c'era un periodo calmo e ritornava materiale fino sabbioso poi ritornava e questa alternanza sicuramente si è ripetuta nell'arco dei milioni di anni tantissime volte e questo si può vedere nei vari passaggi si può vedere in questo punto che il cunicolo prosegue in maniera rettilinea per almeno 100 metri da qui e questo cunicolo ha un'altezza abbastanza regolare mentre dall'altra parte era stato rinforzato in vari punti c'erano varie variazioni di altezza questo vuol dire che siamo su un materiale che dal punto di vista della sua consistenza della sua compattezza è più compatto vedete qui come si vedono bene queste stratificazioni incrociate che segnano i vari episodi di deposizione sulla spiaggia mentre al piede vediamo tutte le venute d'acqua perché noi stiamo camminando esattamente alla base di questa serie permeabile e sotto abbiamo la serie impermeabile quindi queste acque sono poi acque ricche di carbonato di calcio perché? Perché tutti questi materiali che costituiscono questa serie provengono dalle colline circostanti e qui ad esempio a Trequanda ci sono degli affioramenti di rocce carbonatiche imponenti quindi questi ciottoli sono anche ciottoli di matura carbonatica l'acqua piovana che prende in soluzione l'anidride carbonica è capace di dissolvere il carbonato di calcio poi quando arriva qui esce fuori cambiano le condizioni chimico-fisiche e l'acqua rideposita il carbonato di calcio qui vedete una deposizione proprio di acqua qui si possono vedere proprio i cristalli di calcite che si formano anche in superficie galleggiando su quest'acqua che fuoriesce qui si può vedere la canaletta che porta all'acqua che qui sotto ora è sporca l'acqua comunque sotto questo mattone c'è un foretto da cui si può vedere che esiste questa canaletta che porta l'acqua fuori ma qui l'acqua fino a dove può arrivare? no, qui l'acqua non arriva sopra a questo livello attualmente in passato era una cosa diversa perché? perché in passato era più alta quando il cunicolo non c'era perché la falda era sicuramente più alta ma queste date sono sono graffiti fatti da persone che probabilmente entravano o per curare i cunicoli o per curare la venuta data ma inutenzione certo, quindi questi qui sono graffiti le incisioni ne abbiamo trovate tantissime quindi spesso erano persone che si mettevano lì a lasciare un segno della loro presenza anche all'epoca andavano ma l'importante è che improvvisamente da un cunicolo che è regolarmente con quell'altezza lì si arriva ad un'altezza di circa 6-7 metri improvvisamente e con dei grossi rinforzi questi ci sono 5 archi più questo imbocco qui che devono avere una qualche spiegazione altrimenti non è che uno si mette a costruire sotto terra questi archi eccoci di nuovo tornati qua alla villa di Leonardo dopo aver visto la seconda puntata del sentiero dell'acqua di Sinalunga e abbiamo fatto un veloce cambio personaggio è venuta qua a trovarci Elena Scaccia presidente della proloco di Trequanda ovviamente dopo Petroio non potevamo non parlare di Trequanda giusto? mi sembra giustissimo per far condicio dovevamo far così allora Elena proloco di Trequanda di cosa ti occupi e quali sono le attività che porta avanti la proloco di Trequanda? allora la proloco negli ultimi anni si occupa principalmente di pubblicizzare gli eventi che vengono fatti in tutto il territorio principalmente comunale ma anche della zona quindi mi faccio mandare le locandine da Petroio da Borgo Salotto che è l'associazione di Castelmuzio da la proloco delle terre di Siena quindi cercare comunque di puntare sullo sviluppo del turismo perché le attività da fare sarebbero veramente tantissime ci sarebbe veramente un mondo intero dietro la proloco però chiaramente essendo tutti volontari non è un'attività da poter svolgere a tempo pieno quindi cerchiamo di fare meno attività quindi da questo punto di vista però di puntare principalmente sul turismo ecco perché è una delle grandi risorse turismo e gastronomia che sono i due punti forti della nostra zona quindi principalmente ci concentriamo su questo ecco quindi diciamo che tu sei un po' il capo il capitano di un gioco di squadra di coordini tra di loro questi attori importanti per il nostro territorio non solo quest'oggi noi ti abbiamo invitato qua al nostro giardino valdichiana perché tu sei anche membro del gruppo di Friday for Future di Siena ma anche sei anche un rappresentante nazionale di questo movimento questo movimento nato dalla quindicenne ormai più famosa al mondo la Greta Thunberg questo movimento porta avanti temi importanti legati all'ambiente come si è costituito il comitato di Siena e quali sono le attività ricordo appunto che il 15 marzo scorso proprio a Siena a Firenze c'è stata la prima manifestazione e quindi possiamo dire che anche in Italia e come in tutto il mondo c'è stato un lavoro di squadra veramente importante per tutelare il nostro ambiente questo movimento è esploso tutto insieme tra gli studenti dando questa consapevolezza che noi potevamo fare qualcosa e a Siena è nato principalmente perché alcuni ragazzi si sono ritrovati e si sono lamentati del fatto che nelle strutture principalmente studentesche perché siamo tutti studenti universitari principalmente nelle menze ci fosse questo uso spropositato della plastica quindi è nata proprio questa come una una protesta come quello che è fra alcuni ragazzi allora il gruppo soprattutto Fridays di Siena è molto presente sui social sia la pagina Facebook che la pagina Instagram e da quella io mi sono informata perché le tematiche ambientali sono sempre state una cosa a cui sono molto legata perché io ho sempre fatto la raccolta differenziata ho sempre cercato di ridurre gli spostamenti in macchina tutte queste azioni che mi vedevano come una persona abbastanza strana perché di solito dire di andare a piedi invece che usare la macchina è sempre una cosa stranissima che poi per il nostro territorio esatto e quindi è nato proprio da studenti che avevano voglia di cambiare le cose ora Siena non è una città molto inquinata dico così perché questo è tutto documentato nelle nostre pagine social in vicino al 15 marzo dei ragazzi si sono ritrovati in piazza del campo e hanno raccolto le cicche di sigaretta che ci sono tra le varie insinature del pavimento sembra una piazza pulita ma hanno raccolto 15 sacchetti di mozzicone di sigaretta quindi è venuta fuori una consapevolezza nel senso che piazza del campo che è una delle piazze più pulite d'Italia 15 sacchetti di mozzicone di sigaretta quindi noi puntiamo principalmente a sensibilizzare le persone quindi non è che diciamo ok la sigaretta devi buttare nel cestino non è questo l'importante è far capire perché è importante questo gesto quindi nei vari incontri che sono stati fatti abbiamo sempre cercato di puntare su questo discorso proprio di istruzione tra molte virgolette perché è più importante capire il motivo di un'azione piuttosto che imporla perché l'imposizione non aiuta ad arrivare a una soluzione invece capire è una cosa molto importante anche perché possiamo dire che le giovani generazioni bambini comunque delle scuole materne delle scuole elementari sono molto più attenti degli adulti a volte sono proprio loro che insegnano ai genitori cosa devono fare e proprio per questo perché non è imposto ma c'è dietro un percorso che le tutele le educa a questo e quindi proprio a questo mi riferisco quali sono le attività quotidiane le attività proprio base che ognuno di noi può fare per tutelare il nostro ambiente perché alla fine noi con questo programma stiamo raccontando la storia e la geografia però ovviamente va tutelato tutelarlo per poi tramandarlo e lasciarlo alle giovani generazioni il meglio possibile certo noi abbiamo iniziato innanzitutto con un progetto di sensibilizzazione nelle scuole cioè noi prima della marcia della seconda marcia per il clima che è stata il 24 maggio abbiamo fatto cinque incontri nelle scuole superiori di tutta la provincia siamo stati all'Iceo di Colle Valdezza siamo stati all'Iceo Classico lo Scientifico il San Rocchi di Siena e a Redi di Montepulciano proprio perché puntare sulle nuove generazioni è il primo passo per sensibilizzare poi abbiamo partecipato anche a un altro evento alla festa dei musei scientifici il primo di giugno dove abbiamo fatto questi giochi per bambini sulla raccolta differenziata e questi bambini erano preparatissimi molto più dei genitori ricollegandomi a quello che dicevi perché proprio imparare da piccoli queste buone buone pratiche è il primo passo per migliorare la vita di tutti e a questo proposito le azioni da fare non sono tante fondamentalmente perché buttare una bottiglia di plastica nel giusto contenitore non è un'azione che crea un'enorme fatica anche perché oggi troviamo comunque cestini della raccolta differenziata più o meno dappertutto comunque ci sono anche nei paesi si stanno attrezzando per trovare anche i cestini pubblici divisi per categorie per differenziare oppure possiamo usare le borracce in alluminio e in plastica quelle riutilizzabili per evitare di creare uno spreco sia di soldi perché comunque anche le bottigliette costano perché pensare che una bottiglietta da mezzo litro costa mediamente un euro sia per un discorso di plastica perché comunque si risparmia tutta quell'altra plastica che non viene usata limitare gli spostamenti quindi chiaramente noi nelle nostre zone è alquanto difficile perché non avendo mezzi pubblici non avendo possibilità è ovvio che dobbiamo usare la macchina però magari ottimizzare lo spostamento quindi decidere di andare in un posto piuttosto che un altro perché magari è più vicino oppure fare più attività nello stesso luogo in modo da non usare troppo la macchina oppure anche per tratti brevi perché comunque è sempre uno spreco oppure anche noi abbiamo iniziato anche ad andare in qualche bar di Siena con o il bicchiere di plastica rigido oppure le tazze da campeggio per sensibilizzare sul discorso che si può comunque non usare anche il bicchiere di plastica quindi non è che limitiamo e diciamo no vietato andare a bere nei bar perché danno il bicchiere di plastica però ecco intanto infatti tante volte tante persone ci hanno fatto ah sì avete il bicchiere rigido la tazza che bello esatto quindi è un modo sia per suscitare curiosità che per suscitare la realtà perché tanti comunque ci vedono sempre come gli strani della situazione però ecco queste sono principalmente le cose che uno dal piccolo può fare perché sembra poco chiudere l'acqua quando ci laviamo i denti per esempio sembra una banalità ma si risparmiano litri e litri d'acqua quindi sono tutte piccole azioni che possono aiutare il nostro meraviglioso pianeta che poi alla fine vedete allora le borracce sì è vero possiamo dirci ah quella è strana perché va a piedi o c'ha la borraccia sì però le borracce possono essere anche personalizzate possono diventare un oggetto scicchissimo che può fare moda non per niente ora io ho questa invernale estiva che mi ha regalato la mia bellissima redazione è con il feltro con il veltro qualcosa del genere però io lo posso lo posso personalizzare come voglio quindi è anche un oggetto che crea la persona e fa il personaggio diventa di moda perché poi ci sono tutte colorate di tutti i materiali assolutamente sì infatti vediamo già da qui possiamo capire la differenza un po' del personaggio no? esatto esattamente allora dopo questa parentesi altre attività del vostro comitato quali sono? fate farete altre manifestazioni avete altre ovviamente Siena che si accoda al comitato nazionale allora come Siena ci sarà uno sciopero globale la terza marcia per il clima a fine settembre il 27 e poi ci sarà un'altra assemblia nazionale la seconda perché la prima c'è stata ad aprile a Napoli perché la prima c'è stata a Milano quindi per far con dire ci spostiamo dove verrà deciso effettivamente chi vogliamo essere perché in questo momento non esiste un movimento fra i despot siamo dei ragazzi che ci troviamo e che vogliamo combattere per l'ambiente quindi dobbiamo capire dove vogliamo andare e chi vogliamo essere perché anche quando ci troviamo a interfacciarci con autorità con sindacati con chi vogliamo dobbiamo comunque dire chi siamo quindi dal punto di vista nazionale e locale su questo punto di vista ci spostiamo su questo per quanto riguarda sul locale stiamo collaborando con il DSU che è l'azienda del diritto allo studio universitario che regola le menze nell'università per limitare l'uso di plastica monouso o addirittura toglierlo quindi ci sono vari gruppi fra Fridays for Future poi il gruppo Buone Pratiche e altri studenti che si sono interessati e ci sono questi incontri con il gruppo DSU proprio per andare su qualcosa di concreto cioè non è che non vogliamo dire ok noi andiamo solo a bere con il nostro bicchierino di plastica rigida proprio vogliamo far capire che determinati oggetti sono superflui perché usare un piatto compostabile quindi da poter buttare nell'organico piuttosto che un piatto di plastica è la stessa identica cosa costa un pochino di più perché ancora non è diffuso come uso però piano piano quando poi anche dopo la legge che ci sarà dell'Unione Europea del 2021 di abolire la plastica monouso sarà una cosa obbligatoria per tutti quindi è bene iniziare prima da non trovarci impreparati e poi per poter aiutare dapprima il nostro ambiente e allora tutti uniti in questa battaglia perché è veramente importante non solo per noi ma anche per le per le giovani generazioni io Elena a questo punto ti ringrazio ti grazie di essere stata qui con noi grazie a voi gentilissimi grazie in questa bellissima villa e io vi saluto vi do appuntamento a venerdì prossimo proprio per rimanere in tema con il movimento e grazie a tutti di essere stati con noi e ciao ciao